Ed eccoci qui, le 9 e 3 minuti ormai, grazie per essere ancora qui con noi e grazie per essere in collegamento da Ulan Bator della Mongolia, a sua eminenza Giorgio Marengo, perfetto apostolico di Ulan Bator, grazie eminenza per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, un saluto a tutti. Grazie e buon pomeriggio, perché da voi appunto sono le 16 di pomeriggio, quindi grazie veramente per questa presenza. Partiamo in realtà da lei, partiamo da lei che prima di essere cardinale, prima di essere vescovo e soprattutto missionario, missionario della Consolata, dall'inizio in Mongolia. Come nasce questa vocazione e cosa ha trovato in Mongolia quando è arrivato? Sì, il dono della Mongolia per me è arrivato come veramente una grazia pura, nel senso che per obbedienza sono arrivato qui nel 2003, esattamente 20 anni fa. Avevo il desiderio, sentivo l'attrazione per il mondo asiatico quando mi preparavo come missionario della Consolata nei vari anni di studio, gli ultimi dei quali a Roma, ma non mi sarei aspettato, immaginato che la mia direzione generale mi assegnasse al primo gruppo dei missionari della Consolata in Mongolia. Quindi è stata una grande gioia associata a questa grande scoperta giorno per giorno, soprattutto i primi anni, fatti di tanto studio, ambientalazione nel nuovo contesto, cercare di decifrare la realtà, creare delle relazioni fra noi come missionari e missionarie della Consolata e anche con la piccola chiesa che abbiamo trovato e con la gente. Quindi un dono grandissimo di questo riconoscente. Eminenza, il rapporto della Mongolia con la Chiesa Cattolica è molto giovane, l'anno scorso avete festeggiato i 30 anni da questa missione, questa missione che parte appunto nel 1992, poi con una missione su Iuris, ricordiamo una missione su Iuris, in un altro stato, in un altro territorio, poi arriva l'elevazione della missione su Iuris a Prefettura Apostolica nel 2002, siamo quindi quasi verso una dioce, si potremmo dire. Qual è la situazione oggi della Chiesa in Mongolia? Com'è cambiata in questi 30 anni e quali sono le prospettive? Sì, come lei ha ricordato, abbiamo festeggiato l'anno scorso i primi 30 anni di vita della Chiesa Cattolica di Mongolia, anche se ci piace sempre aggiungere i 30 anni in epoca moderna, contemporanea, perché nell'antichità, nel XIII secolo, di sicuro, ma anche prima, probabilmente dall'VIII-IX secolo, una presenza cristiana è attestata in queste zone dell'Asia centrale e settentrionale, quindi il ritorno, chiamiamolo così, della Chiesa in questo paese è corrisposto appunto al processo di democratizzazione che la Mongolia ha avviato dopo 70 anni di rigido regime comunista. E quindi sono stati 30 anni estremamente intensi, valutavamo proprio l'anno scorso con i missionari, con i fedeli, che 30 anni non sono né tanto né poco, è una vita ormai adulta, almeno vorrebbe esserlo, e sono stati 30 anni di grande pionierismo missionario all'inizio, soprattutto impersonati dal primissimo gruppo di missionari, si parla dei padri dei missionari del Cuore Immacolato di Maria, la cui sigla in inglese CICM, il primo dei quali fu proprio quello che poi divenne nel 2003, il primo vescovo di Ulan Batra, Monsignor Padiglia, che mancò improvvisamente nel 2018. E quindi grande pionierismo, grande sforzo di entrare in punta di piedi in questa realtà che veniva fuori appunto da un cambiamento epocale molto profondo, con anche tante necessità di primo ordine, quindi un impegno a tutto campo nella promozione umana, nel sviluppo di progetti di attenzione alle varie necessità, che si è mosso di pari passo con la testimonianza della nostra fede, che ha aperto un numero ristretto di persone a interrogarsi e a eventualmente poi scegliere di entrare a far parte della Chiesa. Quindi sono stati 30 anni molto intensi, molto simili, se vogliamo, all'esperienza degli apostoli, come viene descritta proprio nel libro degli atti degli apostoli, e che continuano, anche se in una forma un po' diversa, perché la società in questi 30 anni si è evoluta anche molto rapidamente. Direi che forse la necessità più grande ora è proprio quella di affermare, riaffermare questa presenza cattolica in Mongolia, in una forma che faccia sì che le persone stesse diventino protagoniste, i fedeli mongoli assumano in prima persona la fede che hanno liberamente scelto, e quindi un grande bisogno di profondità, di radicamento di questa fede. Eminenza, 30 anni che poi corrispondono in qualche modo anche alla sua creazione a Cardinale l'anno scorso, nel 2022. Lì è stato nominato vescovo nel 2020, poi è stata annunciata dopo l'Angelus a fine maggio del 2022 la sua creazione a Cardinale, è venuta di lì a poco nel concistore ordinario del 27 agosto dell'anno scorso. Ha sempre voluto evidenziare, come in qualche modo sia anche un segno particolare, un gesto molto forte di Papa Francesco nel voler chiamare ancora più da vicino alla Chiesa di Roma, anche la Mongolia. Sì, certamente questo è un gesto che ci ha sorpresi tutti, ma che è molto profetico, credo, perché conferma questa attenzione del successore di Pietro per le realtà più lontane, se vogliamo, dal centro geografico, ma che evidentemente secondo lui hanno qualcosa da dire al resto della compagine ecclesiale. Questa anche sua scelta di compiere i suoi viaggi apostolici al di fuori dell'Italia in realtà, in cui la Chiesa è una minoranza, è confermata anche da altre scelte, appunto come quella di arricchire del Collegio Cardinalizio persone provenienti dalle realtà più più lontane, se vogliamo, più diverse. Quindi siamo molto riconoscenti a Papa Francesco per questa coraggiosa scelta che ha fatto e vediamo già comunque anche gli effetti positivi di questa sua decisione, perché tutto questo ha aiutato anche la Chiesa a mettersi in un dialogo ancora più proficuo e profondo con la realtà sociale del Paese. Le ha fatto in qualche modo effetto anche il fatto di essere il cardinale più giovane del Collegio Cardinalizio, lo possiamo dire, ha 48 anni e attualmente il membro più giovane del Collegio. Qual è la sensazione? Ma sì, certamente un grande stupore. La sensazione è quella di mettermi in ascolto di tutti i cardinali ben più esperienziati di me. È stato molto emozionante dopo il concistoro, nei giorni che sono seguiti, ad agosto c'è stato questo momento voluto dal Santo Padre di raduno di tutti i cardinali, almeno della maggioranza di noi, per riflettere insieme sulla predicata Evangelium. Mi sono trovato di colpo appunto in un'assise fatta di persone con grande esperienza ecclesiale, con diversi doni di sapienza, di esperienza, di diplomazia e quindi per me è un grande onore ed è una scuola di vita che spero di poter implementare, raccoglierla dall'esperienza così ricca di persone che stanno segnando la vita della Chiesa, raccoglierla e cercare di trasmetterla alla Chiesa, alla porzione di Chiesa che mi ha affidata qui. Sicuramente tanta emozione, tanta responsabilità e ne continueremo a parlare. Inoltre ci fermiamo solo qualche secondo per dei piccoli spot pubblicitari e poi ritorniamo qui in diretta su Padre Pio TV. D'accordo. Bentrovati delle spettatrici e delle spettatori di Padre Pio TV, siamo ancora in collegamento con Giorgio Marengo, cardinale e prefetto apostolico di Uran Batur in Mongolia. Eminenza, c'è un'immagine che a me aveva colpito molto, che è quella di una statua dell'Immacolata che è stata trovata una decina di anni fa addirittura nell'immondizia e voi avete deciso poi in qualche modo di recuperarla. Ecco, avevo letto che era in un ufficio parrocchiale e poi avete deciso di intronizzarla all'interno della cattedrale di Uran Batur, ma soprattutto l'anno scorso avete fatto un gesto molto particolare. Quale? Sì, abbiamo deciso contestualmente all'intronizzazione di questa statua di rinnovare un atto di consacrazione della Mongolia intera alla Vergine Maria. La storia di questa statua mi ha veramente colpito, ne sono venuto a conoscenza durante il secondo anno di episcopato, cioè due anni fa, quando alcune suore mi hanno raccontato la vicenda di questa donna non cristiana che viveva di espedienti raccogliendo quello che poteva trovare dalla spazzatura in una grande discarica all'esterno di una città della Mongolia e che era venuta in qualche modo in contatto con le suore per cui aveva sentito parlare della madre di Dio, aveva visto delle immagini e un giorno raccogliendo la spazzatura, cioè cercando di recuperare qualcosa dal carico di spazzatura che veniva portato alla discarica, trovò un oggetto strano avvolto in un panno e con grande suo stupore si accorse che si trattava di questa statua che era in ottime condizioni, la portò a casa sua ed fu molto felice perché questa bella signora aveva deciso di venire proprio da lei. Con ancora più grande stupore le suore qualche tempo dopo, quando le fecero visita nella sua misera tenda dove viveva, trovarono questa statua e richiesero l'origine e lei raccontò la storia per cui poi questa statua passò da questa signora che è ancora viva e che ha partecipato anche alle funzioni, passò alla locale parrocchia dove rimase appunto come lei diceva nell'ufficio parrocchiale. Ma quando veni a conoscenza di questa storia mi sembrò come che la Madonna volesse dirci qualcosa, fosse un segno eloquente di come lei volesse farsi sentire vicina a tutti noi, proprio come il figlio suo che è stato rigettato dagli uomini. E allora abbiamo ricostruito le tappe di questa storia, l'abbiamo portato l'anno scorso a marzo quando Papa Francesco ci ha chiesto di fare questa consacrazione del mondo alla Madonna con particolare intenzione per la pace e poi adesso all'8 dicembre proprio all'Immacolata abbiamo voluto fare una celebrazione ancora più solenne alla presenza del Nunzio Apostolico e anche del Presidente della Conferenza Episcopale dell'Asia Centrale con un buon concorso di popolo, è stato veramente un momento toccante e quel manto a cui lei accennava è fatto e formato da pezzi di stoffa che i fedeli hanno inviato, erano stati invitati a consegnare alla Chiesa un pezzo di stoffa o di un vestito o di un oggetto di stoffa che fosse particolarmente significativo per loro. Per cui questo manto in cui ci sentiamo avvolti dalla Vergine Maria è formato dalla vita e dalla preghiera di tutti noi. In qualche modo la comunità che fa da manto e in qualche modo protegge anche la Madonna. Emienza, torniamo al concistorio. Lei, quello è stato il 27 agosto 2022, è stato anche l'ultimo concisorio che ha visto anche la presenza ancora di Papa Benedetto XVI. Abbiamo anche delle immagini di quando al termine del concistorio lei insieme agli altri nuovi cardinali e avevate anche incontrato il Papa Emerito che ci ha abbandonato solo qualche settimana fa. Qual è il ricordo che lei conserva di Papa Benedetto XVI? Un ricordo bellissimo di un uomo di Dio, di un grande pastore della Chiesa. Il primo ricordo diretto ce l'ho quando venni in una delle mie visite in Italia e partecipai ancora tanti anni fa a una udienza del mercoledì e capitò che passò proprio davanti a dove io ero posizionato alla fine dell'udienza e mi venne spontaneo gridare Santità, preghi per la Mongolia. Ricordo che la macchina si fermò e lui si girò verso la zona da cui aveva sentito questa voce e guardando, cercando di riconoscere chi avesse detto questo, esclamò Mongolia, come dire. Sì, ecco. E poi la grande gioia di poterlo salutare ancora appunto ad agosto, il 27, questo momento molto intimo con i nuovi cardinali e la bellezza di quest'uomo consumato dall'età ma con una vita piena offerta alla Chiesa e le sue labbra che si muovevano appena nel canto della Salve Regina che ha concluso il nostro incontro. Esatto. E infine una domanda d'obbligo. Qual è il suo rapporto con San Pio? Se ha avuto occasioni di poter in qualche modo avvicinarsi a San Pio lì o in famiglia, in realtà ne abbiamo parlato anche prima dietro le quinte. Qual è la sua testimonianza? Sì, io ho una grande ammirazione per San Pio come tutti noi e direttamente ho avuto la bellezza di un contatto che è avvenuto tramite mio padre e mia madre che erano andati a trovare dei loro carissimi amici che dal Piemonte si erano trasferiti a San Giovanni Rotondo proprio per seguire San Pio. E mio padre ricordo più volte, ormai mio papà è già in paradiso, ma aveva raccontato di queste due o tre esperienze di incontro personale con San Pio, in particolare una confessione che lui ebbe la grazia di avere con lui e le domande che San Pio gli fece lo fecero riflettere molto su cose apparentemente semplici della vita ma alle quali forse mio padre non aveva posto abbastanza attenzione e la sua grande ammirazione anche l'aver partecipato ai fenomeni che conosciamo, per esempio delle profumazioni durante la celebrazione della Santa Messa e quindi ho sempre avuto diciamo così un contatto di riflesso tramite questa esperienza di mio padre e di mia madre, una grande ammirazione per San Pio. Abbiamo alcuni fedeli mongoli che hanno preso il nome di Pio come nome di battesimo proprio in onore di San Pio. È una bella testimonianza, grazie Eminenza per essere stato con noi, era il Cardinal Giorgio Marengo, prefetto apostolico di Uran Bator in Mongolia, con l'invito ovviamente a venire a questo punto a San Giovanni Rotondo e con la speranza perché no di poterla accogliere proprio qui nei nostri studi. Grazie a voi, è stato un bel momento ecclesiale, grazie a tutti. Grazie.